Sanità pubblica efficace, equità sociale e asili meno cari, sostegno allo sviluppo delle attività commerciali e una politica internazionale a sostegno dell'imprenditoria. Questi i quattro punti programmatici fondamentali per il Partito Liberale Italiano per il rilancio di Arezzo, punti condivisi anche dall'intera coalizione Alleanza per Arezzo, con cui il Partito Liberale si presenterà alle prossime elezioni comunali. L'organizzazione delle ASL da 12 passa a 3, pensiamo che sia una riorganizzazione che non va assolutamente a vantaggio di noi cittadini e della nostra salute, quindi ci opporremo sicuramente, se sarà possibile, anche attraverso un referendum a questa legge. Siamo stati primi ad appoggiare il Comitato Sanità di Arezzo, è fondamentale che i cittadini sappiano che quello sta succedendo, crediamo che le famiglie, le giovani famiglie che mettono su figli abbiano bisogno di un aiuto, quindi cercare di venire in conto soprattutto per quanto riguarda la spesa economica degli asili della scuola materna, che grava troppo oggi sulle famiglie, un aiuto all'artigianato, ai commercianti, e quindi c'è possibilità attraverso una legge di dare delle agevolazioni per quanto riguarda l'Imo e l'Atari. E poi un occhio particolare alle imprese, anche alle imprese orafe specifico, e quindi ci prendiamo cura anche attraverso un evento che abbiamo organizzato nel Partito Liberale, questo venerdì il 27, presso la Borsa Merci, dove sarà presente il professor Edward Ludwak, il presidente della Camera di Commercio di Italo-Librica, per parlare di imprese ed estero, e quindi tutte le problematiche che oggi purtroppo con la Libia, con i Dazi, vanno a interferire nelle possibilità delle imprese, soprattutto quelle orafoche.